Lei non può stare qua, noi dobbiamo farlo in verbale, io veramente sono stato un po' distratto, non pensavo di dover stare qua, che sarebbe successo questo, se no non sarei uscito di casa. Usco anche di casa perché il mio medico, il mio cardiologo, mi dice di non stare troppo in casa e di muoversi perché altrimenti c'è atrofia ai muscoli. Dice guarda ne vedo tanti che adesso si alzano dal letto e vanno sul divano e quindi la parte muscolatura insomma si sta un po' abbandonando, gli stanno un po' abbandonando. E quindi no, io ho spiegato cos'era, questi signori non ci prende in giro, cioè loro si sono sentiti presi in giro, ma chi vuol prendere in giro? No, io non voglio prendere in giro nessuno, ma non mi sembra che questa cosa che voi state facendo sia educativa, sia finitiva. Ma perché era seduto col giornale? Sì, praticamente sì, io ho detto guarda che devo andare in farmacia, no? Sono qua, aspetto una persona e poi vado in farmacia, o se vuole torno a casa subito, però non stia a fare il verbale, che senso ha, no? Fare il verbale. Ma lei non aveva il... No, 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 stupidamente, perché la mia casa è qua a 300 metri.